Tutte le donne saranno molto contenti, è vero? Sì! Lo sapevano! Allora io adesso lascio il microfono a voi perché anzi, ecco, pronti con l'altro microfono? Matteo, ti lascio il microfono? Ecco, perché tu sei molto bravo! Allora, è da uomo o da donna questo? È da donna! Va bene, va bene! Ci siete ragazzi? Allora Omar, io non so te ma l'arlecchino così è una meraviglia! Allora, siete bellissimi da vedere! Siete già belli di natura! Ma quando applaudite siete ancora più belli! Fate vedere! Mamma mia che roba, mamma mia che roba! C'è roba, sta arrivando! Ci sentite? Luca, sei pronto con la tua tempesta? Questo per cantare, questo per parlare! Signori, Luca Bergamini è la sua TEMPESTRA! Quando cantavo la città, luce accese sembra un grande luta qua! C'è roba, mamma mia che roba! Non è come quei miei, sempre in lotta per cercare di essere il mio! Quante volte senza parte che, ho sentito sto storia a perdere! Mentre la mia vita, scimolava come sabbia dentro la tessidra! E poi finalmente tu, uno sparo all'improvviso! Fortemente tu, attagliamento il mio cielo, tuone fulmine! E poi ti, attagliamento il mio cielo, tuone fulmine!